hello bell guys benvenuti in questo nuovo video e buon halloween come si lo sa suol dire e oggi non porto roba edison però faccio un po di unboxing e quale roba migliore di fantasmi dal passato per halloween sono con l'ospite d'eccezione salve salve che sembra la stessa allora io intanto vabbè lo faccio rivedere il segillato però lo vado ad aprire quindi ci vediamo fra pochissimo tempo che ve lo apro che direi che sono un bel po ora tocca capire come aprile e spostiamo intanto se devo già aprire qualcuno qua eh se magari riuscissimo ah così dobbiamo sollevare tutto giù no no ma c'è il sigillo ollevare io direi di prendere al suo punto tutte le bustine le mettiamo tipo su a oddio lavora in corso intanto abbiamo aperto i busti scusi mi approfittiamo mi devi far trovare la postica quale era il tipo diciamo che l'immagine di questa colorazione qua ma io non ho idea della roba che si trovi dentro, però a parte immagino le cover card dell'espansione e spero di trovare tra tutto lui, tra l'oddio mi cacciano tutto, però preferirei forse il da carnet dragon, quello che preferisco tra quelle che ci sono, ok, facciamo un po' di mischiare al generale, le bustine, ok, forbici, ok, cominciamo ad aprire anche tu, secondo me, quindi andrò dove le forbici sono in inglese, le bustine, andrò precisato, allora, ok, io non ne ho idea di che carte siano, boh, poi me le vado a controllare, diciamo che l'obiettivo è quello di cercare la costa, no, se vuoi fai tu, davanti alla telecamera, vai, 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 è abbastanza, io non vedo le carte, ma non so cosa siano, però almeno d'usa potevo fare i discorsi, oh, questo lo conosco, oddio, link, ah, sparali, allora, ragazzi, un'altra cosina che, giustamente, mi è stata fatta notare nel video, è che, oh, che è quella carta bianca, vai, 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 scusa, vedo i sincro, vedo i trigger, mi è stata fatta notare che, giustamente, magari, nei video scorsi, ho sempre detto che il goto è costoso e bla bla bla, ora, giustamente, ci sta il fatto che, abbiate detto, magari, cioè, non voglio essere fatto tra i miei, vabbè che sto, oddio, oddio, un'agente, figo, vai, 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 ma che è questo robo? Bacca di Haytor, finissimo, to, 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 ah, il galaxy soldi, comunque, stavo dicendo, potrebbe essere stato trainteso riguardo il goto, nel senso che, io non vi dico di non giocarlo, anzi, rispetto al formato modern è molto più economico, eh, sia chiaro, oddio, oddio, perchè non mi trovo ancora la costa eh, che non si trova la costa io la sfiga che c'ho, bello questo, bello pure questo, ah, qua si trova pure il raisone ce l'ho anche si, oh ma è superiore, guarda questo ma è bellissimo, fa sfiga che c'ho a costa manca a pagare, ma la trovi la trovi ma questo si chiama tecnica del chiantillo il chiantillo, per chi non lo sapesse, è la magica tecnica in cui tu ti lamenti di una cosa che non avviene però puoi rilamentarti, questa poi avviene, questa poi avviene, esatto e quindi, oh, un insetto, mazza, sono plecato, oh, sono plecato il 2018 oh, questo mi mancava, mi ricordo, dai tempi lo cercavo, sto qua per l'argent guarda la costa, mi piace questo che carino i costrix, sì, sono bellissimi c'è però, uh, la bestia a cristallo c'è questi i perallo, quindi sono l'ideale la cost... no, non è vero tanto, sentiamo entrambi come andrà a finire eh, che non si trova, l'occhiantillo non è vero vediamo questa parte anche la similore, qua è rimasta solo una bustina e niente costi ah, ma sto cosa non è il tizio più bannato, vabbè chi ha l'ultimo, a te l'onore l'onore, ma io sono sfigato quando tu, quando tu però con suspense, con suspense eh, significa con suspense però mi sa non ce n'era la costa vai e infatti niente costi ecco un pacco cuore e niente e niente ragazzi questo halloween è triste adesso devo rivedermi tutte le carte che ho trovato perché non ci sto ma abbiamo trovato un drapumontaggio non esiste il drapumontaggio qua dentro non lo so, vabbè e comunque ragazzo io allora i prossimi video vi ho detto porterò roba a Edison ve lo prometto quindi non vi preoccupate e sono a quanto triste perché non ho trovato la costa perché io ho sempre la maledetta sfiga quando io non riesco a trovare la terza tour in 24 pack di Dusa ma vabbè e vabbè io vi ringrazio sempre per la compagnia vi auguro di nuovo il buon halloween quindi fate i buoni e... see you next time grazie